Sì, è là vicino, è un paziente. Per chi può che sì, è un problema. Ci sono tanti eccellenti, ci sono quasi a fare che stanno cosando, però è obbio che se volete... Lei ha molto appetito, ogni tanto la si ferma, la si massaggia un attimino per aiutarla, poi la si rimanda ancora un po' a mangiare, sempre in una posizione mai col cibo per terra. Si vede che ha sofferto la fame, in questa maniera lei non vomita, mentre prima non lo sapevamo di questo suo problema, l'esofago. Appena mangiava da per terra, poi vomitava quello che aveva mangiato, e poverina. Poi lo rimangiava. Questa è un'altra maniera. La mia signora è un'altra maniera. La mia signora è un'altra maniera. Grazie a tutti.